Graziano buongiorno, dicevamo che il tema della reintroduzione della flessibilità per l'accesso alla pensione è un tema caldo nell'agenda del governo, che cosa ne pensa lei? Io penso che sia essenziale, anche perché con la legge Montifordero sulle pensioni è stata fatta una grande operazione di cassa dove sono stati recuperati 80 miliardi di euro, per cui è necessario avere una maggiore flessibilità per contrastare il fenomeno della perdita di lavoro, che oggi colpisce molto quelli vicini ai 60 anni, ai quali vengono sempre più espulsi dal mercato del lavoro senza avere però raggiunto il requisito di pensione. Certo, tra l'altro ci sarebbero al vaglio un paio di ipotesi, la prima è anticipare a 62 anni la pensione con una penalizzazione del 2% l'anno, costo stimato per le casse statali circa 4 miliardi e poi una seconda proposta a fronte di costi zero per lo Stato, però si arriverebbe fino alla riduzione al 30% dei trattamenti. Non c'è modo di trovare una sorta di via di mezzo tra queste due proposte? Ma noi come organizzazione siamo contrari a prevedere delle penalità che addossino sulle spalle dei lavoratori ulteriori oneri, così si aggiunge anche a una beffa perché è una riforma che li ha già fortemente penalizzati, il danno è di un ulteriore costo a loro spese per poter accedere alla pensione. Pertanto chiediamo che questo sistema di flessibilità deve essere favorevole, deve essere riconosciuto al lavoratore per i contributi che hanno versato. Certo, e invece per quanto riguarda il pensionamento delle donne che cosa possiamo dire? Che è necessario fare un intervento per agevolare il pensionamento delle donne anche perché tradizionalmente loro fanno due lavori e poi nelle aziende, soprattutto nelle aziende, io penso al parte testile, eccetera, le sono fortemente penalizzate perché oltre alla famiglia loro hanno il lavoro e pertanto rischiano con la proposta che c'è di perdere molti soldi. Certo, Graziano faccio ancora un'ultima riflessione con lei. Come si concilia l'ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani, peraltro favorito dal Jobs Act, con l'esigenza di chi dentro il lavoro c'è già di restare il più a lungo possibile? Ma noi stiamo lavorando in qualche situazione, in qualche accordo aziendale sulle staffette generazionali, è necessario invece trovare delle soluzioni perché io penso che se noi dassimo la possibilità di andare in pensione alle persone che sono vicine alla pensione, che hanno lavorato 40 anni, 38 anni, 40 anni in lavori pesanti perché poi noi dobbiamo tenere una considerazione, un conto è fare, se si sta negli uffici, un conto è se uno è infermiere, se uno lavora su una gru, se uno lavora in una testitura, sono lavori diversi. È necessario trovare una soluzione per agevolare l'uscita delle persone che sono vicine alla pensione, magari con dei part-time integrati, con i contributi per poter favorire i giovani, perché oggi la massima occupazione è concentrata negli over 55, allora è necessario agevolare questo, anche perché quando ci sono dei processi di ristrutturazione o le aziende ci chiedono di intervenire sul processo del lavoro, chi viene penalizzato sono i lavoratori che hanno più di 50 anni, per cui è necessario fare questo tipo di intervento, anche perché se questo non si fa, noi corriamo il rischio di creare ulteriori esodati che vanno a carico della collettività. Certo, di questo tema senz'altro se ne parlerà ancora lungamente, eventualmente avremo la possibilità di parlare di nuovo con lei e vedere come si stanno evolvendo le cose. Per il momento grazie per il suo intervento. Buongiorno. Buongiorno.